E' un lacrimometro magico che ci misura in centilitri, c'è una versione tascabile, scegli il colore che puoi. Piangi la vita che dona all'amore, piangi la vita perché si muore, qui non si butta via niente, nemmeno le speranze. Siamo fatti di tante parti diverse al nostro interno, alcune molto belle che ci piacciono, che amiamo, altre che sono invece scomode, difficili, insomma c'è una convivenza un po' da capire. E invece la pazienza è proprio quell'elemento che forse ci può permettere di volerci più bene, di accettarci, di farci una carezza e di essere appunto comprensivi nei confronti di questa natura che in qualche modo non ci siamo scelti, con la quale dobbiamo convivere. Navigare a vista è un'espressione che penso faccia parte della vita di tutti probabilmente. Per molto tempo per me è stato un qualcosa di quasi negativo, non avere una meta oppure andare un po' a tentoni. A un certo punto invece, in seguito a una crisi artistica durante la quale avevo deciso di smettere di fare questo mestiere, era tutto troppo difficile, ero molto stanca. Sono ripartita da questa crisi attraverso la scrittura che poi ha generato questo album che è La natura e la pazienza. Navigare a vista è diventato invece il viaggio, cioè il non guardare tanto dove stai andando ma come lo stai facendo questo viaggio. Per me scrivere canzoni è sempre stato, fin da quando ero giovanissima, lo strumento per metabolizzare una serie di cose. Da ragazza ero molto sensibile, con questa sensibilità estrema che in qualche modo andava gestita. Posso dirti che dopo anche dieci anni di psicanalisi che hanno un peso nel mio percorso di vita, ho voglia di raccontare le cose per quelle che sono, chiamarle con il loro nome senza avere paura. E soprattutto sto imparando, ho imparato che tutto fa parte di noi, quindi è meglio tenere tutte le parti vicine ma vederle e poter dialogare con queste parti anziché allontanare la nuvoletta nera. La musica di seta è nata sulle ceneri ancora fumanti di una pandemia, mi piace dire, ed è adesso col senno di poi, di qualche mese, posso dire che probabilmente era dentro di me da tantissimo tempo il desiderio di dare vita a una realtà che fosse autonoma e indipendente. L'ho concepito come un brand dedicato alla musica d'autrice che fa delle cose, tra queste cose c'è l'etichetta discografica, un web magazine nei quali riportiamo dei contenuti relativi appunto alle cantautrici, alla loro musica, ma anche a tutte quelle figure professionali, donne, artiste della moda, del visual, illustratrici, che ruotano intorno alla musica, che prendono ispirazione dalla musica. E poi quando sarà possibile faremo dei grandiosi eventi ad hoc. Siamo quel salto che brucia l'asfalto e lascia la polvere indietro, condivisione, questo è il mio mantra d'amore, abbiamo libidi da ricordare, storie da scrivere insieme. Creare un progetto dedicato esclusivamente alla musica d'autrice e alle cantautrici nasce dall'esigenza di spazi mancanti. Quindi cosa succede? Nel momento in cui non ci sarà più bisogno di parlare di disparità di genere, di legittimazione del nostro lavoro, per me musica di seta potrà sparire tranquillamente, io non vedo l'ora di aprire l'urlo di Tarzan, in maniera da trovare uno spazio per questi musicisti e colleghi che in questo momento occupano tanto spazio rispetto a noi. L'altro punto secondo me importante è che ad esempio se tu analizzando le analytics di Google e di Facebook e dei social di musica di seta, il 65% del nostro pubblico sono donne ma il 35% sono uomini. Questo cosa significa? Comunque i contenuti che proponiamo probabilmente non sono ghettizzanti nei confronti delle cantautrici, ma anzi sono in apertura e vanno a valorizzare, a portare alla scoperta magari musica bellissima che diversamente non ha dei circuiti per la fruizione. Il rumore è un qualcosa che fa parte di ognuno di noi, ognuno di noi ha una parte di rumore che convive con delle melodie, si alterna rumore, melodie e a volte pause di silenzio che servono tantissimo a scegliere qual è il tipo di strada che vuoi percorrere. Grazie a tutti.